Grazie a tutti. Senza dubbio geniali, umani, dove vi è spiritualità, fierezza, anche un po' di testardaggine, ma quella umanità che ancora secondo me è qualcosa di speciale, se avete necessità di ritrovarvi, di venirci a trovare per curare questo, venite, perché troverete dei luoghi abbastanza speciali. Venite a trovarci perché io credo che in questo caso Norcia, per esempio, io la trovo la città dell'anima. Come ho sempre detto che Gerusalemme è la città di Dio, Norcia è la città dell'anima. Come dice Benedetto, cura ogni giorno l'anima con la preghiera, la mente con lo studio e il lavoro. E in questo momento forse lavoriamo troppo, siamo anche un po' troppo connessi. Abbiamo bisogno di staccare e ritrovare un equilibrio, un equilibrio di vita per vivere meglio. Quindi venite a trovarci nella nostra splendida Umbria, nella nostra splendida Italia. Grazie. Io vorrei invitarvi a venire in Umbria. Chiaramente molti di voi sanno che io sono innamorato della mia Italia, sono innamorato della mia splendida Umbria. Una regione fatta di uomini, di esseri umani, senza dubbio geniali, umani, dove vi è spiritualità, fierezza, anche un po' di testardaggine. Ma quella umanità che ancora secondo me è qualcosa di speciale. Se voi a volte, curando quel mal dell'anima che colpisce l'essere umano da sempre, ma che in questo particolare momento forse, appesantita dal rumore informatico, se avete necessità di ritrovarvi, di venirci a trovare per curare questo, venite. Venite, perché troverete dei luoghi abbastanza speciali, dei luoghi dove vi è silenzio e non sempre. Il silenzio è qualcosa che si trova facilmente, dove si può da una parte mangiare bene, vivere bene, da una parte trovate umanità, dibattito, dialogo. È vero, noi siamo colpiti da questa grande calamità che Aristotele, dove Aristotele dice anche le calamità hanno un'anima. Per nostra fortuna non abbiamo avuto perdite umane. Venite a trovarci perché io credo che in questo caso Norcia, per esempio, io la trovo la città dell'anima. Come ho sempre detto che Gerusalemme è la città di Dio, Norcia è la città dell'anima. In questa splendida cittadella, espressione di qualità, espressione di non via disoccupazione, espressione un po' di tutto. Troverete sempre gente che vi ospita, troverete sempre un bell'ambiente, ma troverete sempre un ambiente umano di grande spiritualità, di grande umanità, di grande misticità. E guardate che questo non lo si può trovare facilmente. È vero, noi veniamo da quella cultura secolare, francescana e benedettina, che ha innestato in noi quell'atmosfera di, come dice Benedetto, cura ogni giorno l'anima con la preghiera, la mente con lo studio e il lavoro. E in questo momento forse lavoriamo troppo, siamo troppo connessi, abbiamo bisogno di staccare e ritrovare un equilibrio, un equilibrio di vita per vivere meglio e forse alzare gli occhi al cielo, come dice Sant'Agostino, che forse la vita ci parrà migliore. Abbiamo bisogno di ritrovarci, abbiamo bisogno di respirare, quindi venite a trovarci nella nostra splendida Umbra, nella nostra splendida Italia. Grazie. 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 Sono Nicoletta Spagnoli e vorrei parlarvi dell'Umbria, dove da generazioni la mia famiglia vive e lavora. Il senso di appartenenza a questa terra è nel nostro DNA e noi lo coltiviamo con orgoglio. Come sapete Norcia è stata pesantemente colpita da un terremoto, ma noi Umbri siamo gente forte, caparbia e resistente e stiamo lavorando per ricostruirla ancora più bella. Il restante 90% del territorio Umbro però non ha subito danni, così come i nostri spendi di paesaggi naturali e il nostro patrimonio artistico. Ovunque in Umbria si possono trovare tanti piccoli tesori che riempono il cuore. L'Umbria è tutta meravigliosa ed è pronta ad accogliervi con la sua tipica ospitalità, con la sua rinomata tradizione enogastronomica e dolciaria, senza dimenticare poi il distretto tessile che è famoso in tutto il mondo. Allora, l'appello che mi sento di fare oggi come imprenditrice Umbra, ma soprattutto come cittadina, è molto semplice. Tornate in Umbria, venite in vacanza da noi, ci aiuterete in questo modo a garantire un futuro alle eccellenze di questa regione e ai giovani che ci vivono. Ciao, sono Marco Bocci e sono qui per parlarvi dell'Umbria, la terra dove sono nato, cresciuto e dove adesso vivo con la mia famiglia. Sapete benissimo che nella zona di Norcia ci sono state diverse scosse di terremoti che purtroppo hanno provocato vittime e distrutto fabbricati. Ecco, l'altro 90% dell'Umbria è ancora in ottime condizioni ed ha assolutamente bisogno di voi. È vivo e vegeto e da cittadino Umbro sento la necessità, il dovere, il bisogno di invitarvi a tornare nuovamente in Umbria. Vi prego, tornate in Umbria. Grazie a tutti.